Quindi in qualche modo è un effetto moltiplicazione anche per la Pramac questa alleanza? Sicuramente, questa cifra qui la fanno principalmente negli Stati Uniti, quindi il 90% è negli Stati Uniti, quasi all'estero fanno molto meno di noi, però sicuramente è un effetto moltiplicazione soprattutto sui prodotti, che hanno prodotti che noi non abbiamo, che sono i motori a gas, che per noi crediamo possa essere un grosso, soprattutto i mercati come può essere la Cina, dove c'è il problema di inquinamento, dove c'è avere una tecnologia che è meno inquinante, è sicuramente negli anni che vengono un grosso a tu. Sono macchine per utilizzo industriale o anche civile? Tutto, diciamo, il gruppo elettrogeno bene o male ha varie applicazioni, da hobbistico a industriale, a prime power, c'è vari tipi di applicazioni, quindi poi alla fine lo puoi utilizzare come meglio credi, telecomunicazioni, c'è tantissime applicazioni, la fortuna del nostro settore è che il gruppo elettrogeno è utilizzato un po' non solamente in un tipo di settore, ma in vari settori. Ecco, quanto pesa questo settore rispetto all'altro della movimentazione merci dei carrelli e levatori? Noi facciamo circa un 85% di gruppi rispetto ai carrelli e levatori, che sono 15. E per noi eravate nati come carrelli e levatori? No, noi eravamo nati inizialmente come macchine per edilizia, poi dopo i gruppi elettroide i carrelli e levatori si aggiunsero a fine anni 80 e poi da lì fu rilevata una parte di un'azienda e quindi un marchio e poi si è creato una divisione di carrelli che ha sofferto molto negli ultimi anni perché c'era il problema anche lì dei cinesi con i traspallet e poi recentemente hanno messo una legge con il dumping, l'antidumping, quindi hanno posto dei dazzi sul traspallet e riparesa sinceramente molto bene l'attività anche di questa divisione. Ma è un acronimo Pramac, mi è venuto sempre la cosa, che vuol dire? Paolo, Riccardo, Alessandro, Mario, Adriana, Campinotti, tutta la famiglia. Senta, allora andiamo proprio sulle radici. Come nasce questa azienda a caso le Delsa e con che criterio nasce? Cioè io diciamo non c'era il fondatore del mio padre e quindi non era nata a caso le Delsa ma è nata a caso le Valdelsa poi si spostò a Monteriggioni nei primi anni 70, quindi era Monteriggioni la base che produceva sia betoniere che paranchi da cantiere e rilevatori. Poi negli anni 80 ci fu un po' una crisi, una crisi edilizia, un po' così e quindi mio padre decise di ricreare un attimo la base di prodotti che poi è quella che ha permesso lo sviluppo successivamente, che erano i gruppi elettrogeni e poi la parte caratteristica. Perché Ando se li ha raccontato mai sui gruppi elettrogeni? Cioè era uno sviluppo lineare, cioè si parla? No, era perché magari era nel settore dell'edilizia, tanti clienti, lui è partito dalla base di vedere che poteva servire alla nostra base di clienti e quindi lì con il gruppo elettrogeno aveva due cose importanti uno i clienti in comune e poi c'erano alcuni fornitori come chi produceva i motori che era in comune rispetto anche alla produzione che avevamo prima e quindi partendo da questa base qui siamo riusciti a partire e poi da lì si è sviluppata un po' tutta l'attività. Come avvengono queste alchimie di snaf, di annusamento internazionale? Cioè tradotto, voi passate da un capitale diciamo in parte di una azienda, di una multinazionale, di una realtà tedesca ad una americana. Cioè come avvengono questi passaggi e soprattutto che analisi vi vengono chieste da questo punto di vista? Noi diciamo nel caso specifico c'era il nostro socio tedesco che aveva mostrato l'intenzione di farsi da parte e quindi abbiamo cercato di trovare un partner che andasse bene anche a noi perché poi alla fine noi che siamo rimasti era giusto trovare quindi con Genera perché avevamo avuto altri contatti, ci conoscevamo e quindi così è nata la cosa. Niente di, non c'è nessun tipo di, avevamo avuto molti altri interessamenti da gente cinesi, però poi alla fine quando devi stare socio con uno è sempre importante anche che ci sia una certa chimica perché poi, ripeto, sulla carta sono tutte le cose belle, poi quando sei nel quotidiano se non c'è un rapporto di stima o anche di conoscenza del passato. Sì, ma poi anche alla fine, quantomeno all'inizio, c'è proprio una fase di entusiasmo, poi dopo, come tutte le cose, come nel matrimonio, se decci a parte stanco, poi dopo dieci anni ci sono le pentolate in cucina. Vola di tutto, a certi matrimoni anche prima. Così parlò Zaratustra. Campinotti, lei è anche presidente degli imprenditori, degli industriali di Siena e vicepresidente di Confindustria Toscana Sud. Ecco, le chiedo nel vostro territorio quante pramac ci sono, per meglio dire, aziende di medie dimensioni che hanno un potenziale per andare sul mercato mondiale e che sono appetibili anche per investimenti dall'estero. Da noi il nostro territorio, che purtroppo è Siena, parlo, è sempre un po' sottovalutato e anche negli ultimi anni ha sofferto molto, perché bene o male purtroppo il fatto del Monte dei Paschi è stato da una parte un grosso vantaggio per il territorio, dall'altra parte è stato un grosso danno, nel senso che non ha permesso una, come posso dire, una crescita o quantomeno... Il fatto di avere il Monte dei Paschi era un po' una forma di assuefazione, un po' territoriale, quindi era tutto, arrivava, c'era qualsiasi cosa, c'era il problema, lo risolveva il Monte dei Paschi. Quindi non ha creato una cultura quantomeno di... Però credo che ci sia tutta una serie di aziende molto brillanti, soprattutto nella Val d'Elsa, che sia nel materiale per edilizia, sia nel polo del camper, da noi è sicuramente una delle realtà a livello nazionale, sicuramente, ma se non europeo, c'è a quale Val d'Elsa la grossa tradizione del cristallo, ce ne sono tantissime di aziende, soprattutto anche di mini cluster, che sono molto importanti. Io credo che da noi il limite vero è l'infrastrutture, perché per arrivare da... Io abito a Firenze, per arrivare da Firenze a Siena, come fare Tikrit Bagdad, non come strada tutta... No, non c'è mai una volta che... Quindi, se non crei una base di infrastrutture che sono... Guarda, anche io, essendo Presidente di Toscana Sud, pensi a Grosseto, Grosseto è un altro paese in cui è devastato dall'infrastrutture. Per arrivare a Grosseto fai prima di arrivare fra un po' a Milano che arrivare a Grosseto da Firenze. Quindi, quando non crei la cosa infrastrutturale, è difficile poi anche che l'impresa si sviluppi, nonostante che ci sia, ripeto, delle realtà a livello nazionale, se non europeo, nel nostro territorio. Pino? Tre domande, così molto a raffico. Uno, effettivamente, ha citato tutti e tre settori in crisi, Trigistallo, Camper, Robert, però capisco anche che è un momento. Ma invece, la domanda, lei è favorevole a Boccia o a Bacchi, nella cosa di Confindustria? Io? Spieghiamolo per chi oggettivamente non ha, un interesse proprio così profondo? Ci sono rimasti due candidati per la presidenza di Confindustria. Benissimo, della Confindustria nazionale. Sicuramente a Boccia. Boccia perché? Vi siete già espressi per Boccia. Noi siamo già espressi, ma anche perché, ripeto, Boccia rappresenta un po' una visione di Confindustria, un po' più, diciamo, il Bacchi, quando Landini dice il mio candidato è Bacchi, per me è già chiusa la... Sulla esclusione, dici? No, vuol dire che è già... Perché lei con Landini non parla. No, io non parlo, io rispetto molto il sindacato, però ognuno deve avere i suoi ruoli. Credo che le scelte del sindacato negli ultimi anni sono state delle scelte, per me, totalmente sbagliate. Basti vedere la posizione che ha preso Landini e quindi la FIOM con la FIAT. Se andavamo dietro a loro, la FIAT era scomparsa. Era distrutto una delle realtà industriali italiane più importanti, che è quella che contribuisce di più al PIL, alla crescita del PIL dell'ultimo anno, che grazie alle scelte scelerate che avevano fatto era chiusa. Perché poi alla fine uno deve anche capire quando è il momento di affrontare... Perché poi alla fine è vero, tutti vogliamo i diritti, però i diritti devono essere anche coniugati con... Non voglio dire dei doveri, però alla fine se uno prendeva la realtà di Pomigliano era una realtà morta, devastata e quindi il fatto... Il fatto che ci abbiano riportato la panda dalla Polonia è fondamentale. Secondo me è una cosa... Io ripeto, non è che voglio criticare nessuno, perché poi alla fine ognuno... Però c'è delle situazioni anacronistiche, basta vedere l'ultima lì di Caserta in cui scrivono al Ministro perché uno sta a lavorare troppo, secondo me... Sulla reggia di Caserta. Ma così faccio, la seconda e la terza domanda. Ma subito così perché io avevo la pubblicità, però se te vuoi farle io... Ma aspetta, ti dicevo... E ride, e va bene... La seconda domanda, voi eravate vicino alla borsa in qualche modo, cioè eravate nel progetto Elite se non sbaglio. No, eravamo in borsa, sì. E come è stata l'esperienza di borsa? La borsa è stata un'esperienza positiva perché ti crea una, come posso dire, una cultura aziendale che ti impone una certa serie di rispetto, certe regole e noi l'abbiamo vissuta con molta... diciamo, siamo stati molto contenti di avere questo tipo di esperienza. E poi avete fatto del listing dopo il fotovoltaico o prima? Dopo. Dopo il fotovoltaico. La terza, te lo prometto... Dopo la pubblicità. La cartuccia l'ha detto lui, eh. Pausa pubblicitaria e poi torniamo. La cartuccia l'ha detto lui, eh. Buonasera, vi ritrovate a Capitani Coraggiosi con l'amministratore delegato della Pramac, Paolo Campinoti. Una parte importante del nostro tessuto economico toscano e soprattutto un'avventura che sposa capitali italiani, per meglio dire toscani, con altri capitali internazionali. In questo caso gli americani che ci hanno messo un po' lo zampino per provare un po', come dire, a mettere in un contesto anche mondiale un'avventura con una testa, con una fantasia tutta italiana. Però io rispetto i patti, Pino doveva fare l'ultima domanda, ne hai facoltà. Solo per dire, perché a me piace la storia del moto mondiale, cioè voi avete cominciato accendendo i lampioni in un gran premio e da là è partita tutta l'avventura del moto mondiale. No, abbiamo cominciato con una... i lampioni sono venuti dopo, perché i lampioni per fortuna sono venuti dopo grazie un po' al lavoro fatto negli anni. Noi abbiamo iniziato con Arada nel 2001, infatti quest'anno è il 15esimo anno di MotoGP. Guardi che immagini il nostro regista Giovanni Torre, appassionato del moto mondiale, ci regala Campinoti. Esatto, questa è poi bella questa. Questa è Silverstone. Questa è Silverstone. E quindi... Fanno generatori industriali loro, non fanno le moto, però sono dentro un circo, diciamo così, a due ruote, mondiale molto importante, un po' per passione e anche per opportunità direi. Prego. E quindi quando abbiamo iniziato, poi abbiamo iniziato, ripeto, a creare questa attività commerciale al lato delle moto e poi, diciamo, nell'anno successivo abbiamo preso Tamada, abbiamo iniziato con le Bridgestone, abbiamo portato le Bridgestone in moto mondiale, hanno iniziato con noi, il primo Gran Premio Bridgestone l'hanno vinto con noi, con Tamada in Brasile nel 2003. Pagliamo di gomme. 4, di gomme, le gomme in Bridgestone. Sì, no, ma lo diceva il telespettatore. E poi da lì abbiamo preso Biagio, abbiamo avuto abbastanza in moto mondiale, sono tanti anni, ora dopo siamo passati in Ducati, mi sembra, nel 2005, e poi abbiamo sofferto un po' la crisi Ducati, perché poi, meno male, la crisi Ducati è stata un po'... Ducati! Grazie a tutti.